buongiorno buongiorno dal gobbo toscano ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo in questo contenuto di calcio mercato ahimè di calcio mercato in uscita ma legato probabilmente anche a qualche entrata a che invece che anche ho detto a che c'è proprio io la mattina si vede che si dorme poi la stagione ragazzi è tosta la mattina non riesco a mettere insieme due parole pensate voi quante volte io faccio ricominciare il video no tutte le volte faccio un'introduzione orribile ecco questa è orribile comunque ma la lascio perché almeno capite cosa vuol dire metterci tutto l'impegno del mondo a cercare di fare tutto a portare avanti tutti gli obiettivi che hai e che ti sei prefissato e quindi ce la dobbiamo fare anche con tutti gli scivoloni del caso allora ragazzi oggi andiamo a parlare di federico chiesa attenzione attenzione federico chiesa non che non si sapesse no che è probabile partente ma ci sono dei risvolti interessanti e vi dico la verità se deve essere ceduto vi dico meglio così se proprio deve essere ceduto se non deve essere ceduto me lo tengo tutta la vita volentieri anche perché siano da me farà un buonissimo europeo stasera vedremo subito la prima chance che avrà l'ex giocatore viola e attualmente in forza la juventus allora andiamo subito a leggere un articoletto bellino bellino trovato trovato stamattina che dice 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 roma e napoli bruciate arriva chiesa per 34 milioni ecco la nuova squadra il futuro di chiesa potrebbe essere lontano dall'italia nonostante il pressing serrato di club come roma e napoli e fino a qui e fino a qui la testa è concentrata sull'europeo di germania che sta per prendere il via ma è impossibile non accostare il nome di federico chiesa in queste settimane alle tanti tante voci e cronache di calcio mercato relative al suo futuro professionale il contratto di chiesa con la juventus andrà in scadenza a giugno 2025 dal momento non vi sono sensazioni positive riguardo ad un rinnovo e dalla permanenza dell'ex fiorentina in maglia bianconera l'impressione è che il nuovo allenatore tiago motta possa fare a meno del suo estro per questo motivo il numero 7 della juve finito sul mercato il club è pronto ad ascoltare diverse offerte d'acquisto per chiesa con l'idea di ricavare denaro liquido dal suo cartellino per poi reinvestirlo su altri obiettivi l'azzurro si sta guardando intorno e non mancano manifestazioni di interesse giunte alle orecchie alle orecchie del suo procuratore fali ramadani che non è un bischio ricordatevi de rossi e conte rischiano la beffa una big di premier vuole chiesa a sto punto federio vai in premier e fatti una gran carriera se la juve non ti vuole fai i tuoti in particolare due squadre italiane rivali della juventus si sono fatte sotto con sondaggi e manifestazioni di interesse per chiesa ovvero la roma ed il napoli visto che i rispettivi allenatori de rossi e conte desiderano l'esterno offensivo come un tassello considerano l'esterno difensivo come un tassello ideale per i loro progetti tecnici in tempi e in modi diversi però il figlio d'arte è stato accostato a diversi club di premier league non è escluso che anche nelle prossime settimane il filo diretto tra chiesa e il massimo campionato inglese possa essere alimentato da spifferi indiscrezioni ad inserirsi prepotentemente nei discorsi sul futuro di chiesa ad esempio potrebbe essere il manchester united intenzionati a rivoluzionare in estate gran parte del pacchetto offensivo con sancho e greenwood finiti sulla lista dei cedibili i red devils potrebbero dunque fare un tentativo per chiesa mettendo sul piatto un'offerta da 34 milioni di euro per convincere la juventus a queste cifre diventerebbe difficile reagire anche per rome e napoli che continuano a sperare in uno sconto consistente da parte della juventus per il cartellino di chiesa vista la scadenza contrattuale fissata tra un anno esatto accostato anche ad alcuni club sauditi e non lo sapevo vi dire la verità l'ex esterno della fiorentina ha rimandato ogni decisione al termine di un europeo che vuole vivere da protagonista al futuro insomma ci sarà tempo e modo di pensare allora partiamo dalla considerazione su il manchester united manchester united vuole cedere greenwood e sancio la juventus è lì lì per prendere greenwood ma è anche interessato a sancio non che riprenda tutti e due ma sta facendo delle valutazioni sull'uno e l'altro nel dal manchester sono in uscita tutti e due bene ma se prendi greenwood dal manchester allora chiesa non lo puoi usare come moneta di scambio io penso proprio di sì penso proprio di sì e cercare di far combaciare le due valutazioni visto che sono tutte e due in scadenza e fare uno scambio alla pari al massimo con qualche percentuale sulla futura di vendita in favore del manchester united visto che greenwood è più giovane potrebbero far quello ecco intanto se così fosse di tutta la narrazione che ho appena messo qui davanti ditemi cosa ne pensate quindi se secondo voi può essere una destinazione giusta per chiesa il manchester e qui o la per il campionato semplicemente la premier league oppure se secondo voi è più probabile che vada in italia anche se abbiamo sempre detto che a livello di ingaggio ci vai a perdere alla roma e al nafo e a livello di competizioni rispetto alla juve ci vai a perdere ecco se almeno vai a guadagnarci dal punto di vista economico se proprio non ci guadagni dal punto di vista delle coppe perché lo united è fuori dalla champions però è comunque un manchester united cioè ora non è che tutti hanno giocato nella propria storia nel manchester united neanche a napoli alla roma è per carità però ora facciamo le dovute proporzioni no le dovute proporzioni tra un manchester united che ha vinto praticamente tutto e lo si poteva vincere nella storia in napoli la roma io le vedo un filino sotto e le vedo un filino sotto ad oggi non la vedo il manchester una squadra più di fascia superiore rispetto alla juventus perché la juventus intanto la champions league la fa e il manchester no il manchester negli ultimi anni sappiamo dall'addio dei grandi allenatori del grande allenatore ferguson ha avuto un periodo di discesa nonostante abbia speso tanto 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 di discesa è inesorabile un calo clamoroso e verticale ma sicuramente sono grandi club che visto che in premier league c'è tanta competizione tanta competitività sono club che fanno più difficoltà a riemergere subito ma a livello di cicli è una cosa ciclica no come ritorna la juve ogni tanto poi rivince l'inter poi vince in milan poi vince la juve poi l'inter poi milano ogni tanto vince un napoli una roma la lazio anche in inghilterra è così ora c'è questa egemonia del city poi c'è questo newcastle che questi grandi progetti c'è una nuova aston villa ci sono squadra c'è sempre il solito liverpool l'arsenal di arteta che ultimamente sta ritornando su negli ultimi anni diciamo che le squadre non mancano poi il celsi tornerà anche il celsi c'è un tottenham cioè ragazzi in premier la lotta per la champions league non è come quella della serie a indo juventus inter e milan se la devono lottare con atalanta napoli roma lazio ora per carità e l'atalanta ha fatto anche bene ma capite bene che se l'inter la juve in milan facessero la juve l'inter in milan ci sarebbe storia ok è ovvio che poi ci sono anche delle direttive no da dover rispettare e sappiamo bene in figici come funziona un anno vince uno l'anno vince 90 se vince troppo uno dà fastidio allora bisogna affossarla e funziona così in italia il paese dei balocchi invece in premier in premier c'è una competitività assurda ecco voi ditemi cosa ne pensate di questa possibilità per federico chiesa io vi dico sempre la mia sempre la mia il mio pensiero è chiesa lo vorrei alla juve ma se tiago motta non lo reputa indispensabile è giusto monetizzare ma preferisco di gran lunga all'estero perché già c'ho conte ai napoli mi riro di culo se vedo chiesa alla roma ai napoli mi riro di culo ancora di più per parlare proprio fini fini e perché udd e voi perché perché a me sono era un allenatore che mi piace da morire un giocatore che mi piace tantissimo io non so voi ma mi ricordo che una delle cose che mi ha fatto più male è stato vedere ibraimovic all'inter o comunque vederlo vederselo soffiare così dalla juventus perché cioè ragazzi siamo andati in serie b e siamo stati costretti a cedere determinati giocatori con ibraimovic e quelli erano gli anni in cui stava esplodendo no e sarebbe stato se non ci fosse stato tutto farzopoli capello ibraimovic emerson vieira cannavaro zambrotta ned del piero ciao 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 proprio ciao proprio ecco perché vi dico che i grandi giocatori i giocatori forti e gli allenatori forti come i dirigenti forti mi dà sempre fastidio vederli andar via e soprattutto rivederli qua in italia ditemi la vostra sensazione ditemi le vostre impressioni fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un'iscrizione che santi dio santi dio non vi costa nulla un bel mi piace una condivisione il commentino che ci sta e poi attivate la campanellina in alto a destra clic clic delle notifiche mettetela su tutte di modo che quando esce un video vi arriva la notifica sui telefoni se volete guardare la mandate via a scorrimento altrimenti cliccatevelo guardate non costa nulla non capisco perché non usufruire di servizio e far sbattere il gobo toscano a mandarli poi no perché poi giustamente qualcuno mi ha detto ma perché non li mandi più su whatsapp io non volevo rompere i coglioni e in due già mi hanno scritto no ma rimandali su whatsapp per ora li rimanderò a quei due che me l'hanno richiesto quindi quando volete una condivisione del video fatemelo sapere però la migliore delle cose sarebbe attivare la campanella di modo che siamo tutti felici e contenti fino alla fine forza juve fino alla fine gobo toscano mi raccomando sempre e solo forza gobbi ciao ragazzi